Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti! Stasera siamo al compleanno di Drax, che compie la bellezza di 23 anni! Auguri! Fatti vedere Drax, grandissimo! Adesso siamo qua che stiamo aperitivando, questo è un buon trossecchino, un po' di beverage, sono le 7.40 come il buon Drax può inquadrare e adesso, più tardi, fra circa 20 minuti, verrà l'ingegnere a prenderci e andremo al bar Due Pigni e lì faremo un ulteriore aperitivo con ulteriori prosecchi, ulteriori pignoletti e io comunque ci tengo a ribadire sempre la mia opinione, la mia idea, cioè bevete responsabilmente ragazzi, mi raccomando perché o bevete o guidate, però io faccio entrambi, però a me come esempio non dovete prendermi poi in seguito al bar Due Pigni, dopo l'apertivo, ci sposteremo al Rifugio dei Golosi, una nota trattoria delle campagne imolesi in cui ci abbufferemo come dei maiali, come dei porci e dopo la trattoria Rifugio dei Golosi andremo al Barcellona un locale faintino che si trova a panni a cavallo, molto carino, entrata gratis, ve lo consiglio anche voi e poi quello che succederà dopo non si sa ragazzi, vedremo, forse andremo a battere da qualche parte non lo so, sulla via Emilia, sulla via Emilia perché siamo i vicini, intanto vi saluto ci sentiamo tra un po' quando saremo un po' più brilli, un po' più avanti si infatti mi spaventa Fausto che tu parli così ma non sei brillo per niente esatto, sono ancora brillo, sono ancora il primo bicchiere ragazzi, come potete ben vedere e quindi cosa dire, salute a tutti quanti voi e ci vediamo dopo con il prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti